Siamo 18 a lavorare presso il Centro Antiviolenza, che è un servizio pubblico e in quanto pubblico significa anche gratuito. È un servizio dell'Ambito Territoriale 1, del Comune di Pesaro ed è in gestione alla Cooperativa Labirinto, di cui noi facciamo parte e collaboriamo insieme a Percorso Donna, che è un'associazione che mette a disposizione all'interno del Centro Antiviolenza delle volontarie. Abbiamo aperto nell'aprile del 2009 e ad oggi, da allora, abbiamo incontrato 1.292 donne, abbiamo preso in carico, quindi il numero è alto. Si è tanto parlato in situazioni, in questo periodo particolare di Covid, che sono diminuite le denunce o le richieste proprio di intervento, ma è un dato sul quale effettivamente riflettere in questo modo? È vero o non è vero? Perché, sapete, il lockdown, la convivenza forzata dentro le case, si è detto che queste violenze domestiche magari erano addirittura aumentate senza che si sapesse, è una cosa reale oppure no? Dunque, i dati ci raccontano che al 15.22, che è il numero verde nazionale, dicevo, le richieste di aiuto sono raddoppiate, siamo arrivati ad un più 119%, questo a livello nazionale. Cosa è successo da noi al nostro Centro Antiviolenza? Purtroppo, il primo marzo, come sappiamo, è arrivato il lockdown. Il Centro Antiviolenza però non ha mai chiuso, chiaramente, perché era esattamente quello il momento in cui invece bisognava esserci, quindi non abbiamo mai chiuso. Un'operatrice è sempre stata presente al centro, tutte le altre operatrici, attraverso dei cellulari aziendali, hanno continuato a contattare sia le donne che avevamo già in carico, sia le donne nuove che avrebbero voluto accedere. Chiaramente però in quei primi tre mesi c'è stato un calo. Facendo una comparazione, teniamo presente che nel marzo, aprile, maggio del 2019 avevamo avuto 38 nuovi accessi. Nel marzo, aprile, maggio del 2020 abbiamo avuto 22 nuovi accessi, quindi è chiaro che c'è stato in quel momento lì un calo drastico. Però poi noi dal primo giugno abbiamo riaperto in presenza gli appuntamenti e c'è stato poi un'escalation di aumento invece di accessi. Teniamo conto che nell'ultimo mese noi abbiamo avuto accessi di 4-5 donne nuove ogni settimana. In totale in questo momento abbiamo in carico 48 persone, 48 donne e volendo portare il dato del 2020, dal primo gennaio ad oggi abbiamo seguito 106 persone, 106 donne. Quindi ripeto, è vero che c'è stato in quel momento lì a proposito del Covid, del periodo del Covid, un calo, ma poi dopo a seguire invece c'è stato un notevole incremento degli accessi.